Porco il f***o! Oggi siamo nella nuova hardcore di Minecraft E oggi faremo una modalità che è tutta al contrario Cioè nel senso, io, cioè tipo, voi mi dite di non fare una cosa io la devo fare E lo, cioè tipo, voi mi dite di fare una cosa io non la devo fare Per esempio, facciamo un esempio pratico, eh Allora, vai Chiara Salta Non salto Non saltare Salto, eh, avete capito come funziona? Buttati Non mi butto Ok Ok Non prendere, non spaccare una foglia Non spacco una foglia? Assolutamente no In realtà sì, vedete, dunisiani, funziona tutto quanto al contrario Quindi adesso sarà un hardcore ancora più difficile Considerando anche il fatto che loro hanno perso vita all'inizio del video Perché si stavano dando pugni e io li ho sgridati come al sol No, non è vero Non è vero Sì, 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 sì Allora, Chiara, prendi gli alberi, tu sei la prenditrice di alberi Angelo, tu sei il picconaio pazzo, tu sai ormai, ecco, già come sei E tu, Gabri, prendi il cibo Il cibo Allora, io ho visto, tipo di là, un sacco di pecore e mucche Vedi, vedi, dov'è che sei? Gabri, vim qua Ecco, sono Bravo E là sopra c'è un sacco di pecore e mucche Bellissime Molto belle Mumu, la mucca, mumu Vabbè, no, no Non facciamo questa parte molto cringe perché già c'è troppo cringe in questo video Mucca, mumu Allora, ragazzi, tunisiani Tutta notte, adesso, se state visto che sta diventando notte Amici, dobbiamo rifugiarci dentro il canyon Oddio Ma io non so più dove sono Chiara, vieni qua Vieni qua Vieni qua Tutti insieme Voi che ne dite? Eh? Allora, bene Ordine in questo video C'è un po' di video in questo ordine A quanto sembra C'è un po' di video in questo ordine Allora Chiara, sei pregata immediatamente Di ricongiungerti al gruppo Eccola, vai là È dall'altra parte del mondo Ragazzi, venite, venite, venite Forza, seguitemi Ok, venite Mi raccomando Cos'è che state dicendo voi là? Cos'è che state dicendo? Poi io gli chiedo una cosa Gli chiedo una cosa E loro non mi rispondono Però nel resto del video Dico un cazzate Ma porca miseria Allora, forza Di Hai detto starnazzate? Ti vergogni di quello che hai detto? Fai bene a vergognarti Perché sei No Sei una vergogna Sei la vergogna di tutto praticamente Allora, forza Entriamo in questo canyon Smettetela di ridere, per favore Allora Ma io non ho neanche un piccone Non ho del legno Eh, beh, adesso ti andrò Ma io è magico È per questo che ci dividiamo i ruoli, Gabri È per questo Tu hai fatto bene Avete una crafting table Dubito mio Certo che con questo mood di dire, Gabri Avete una crafting table Parla bene Dai Parla bene Allora, lo sai che io ti voglio tanto bene, Gabri Però Cos'è stato? Scusate Cos'è? Ah, i disastri dei video di Dunis Hashtag video di Dunis Ah no, aspetta Tengo le cose attive di Whatsapp Mi vengono i messaggi Ah Mi vengono i messaggi No, non sono stato io Allora Non parliamo dei telefoni Delle cose di Whatsapp Non ce ne frega Non gliene frega niente Nessuno Forza, allora Entra dentro Allora, ci siamo fatti questa cosa Per entrare dentro Perché prima ci avevano attaccati Qualche, tipo, due scheletri Gabri, stai attento Perché qua spavolano cose Quante volte le dovevano dire Allora, ci stavano per uccidere Quegli scheletri Di maledizioni Posso avere delle tante, please, Denis Ne ho solo tre Tieni Ah Fai te Eh, sì, 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 sì Però, allora Dobbiamo stare attenti Mi raccomando Io ripeto per l'ultima volta Se ci moriamo qua Moriamo per Per sempre Quindi non è bello morire per sempre Vero? Rispondermi Eh, esatto Eh, dici, è certo Porco il c***o Ma è un kamikaze Eh, oh Dio sa Denis No, no, no Non muoio Non farlo, ma io muoio Ma scusa, ma è un kamikaze Cioè, no, è normale Eh, tunisiani, fate voi Non so C'è stato Questi due c***o Eh, vabbè Con la zucca in testa, no? Sì, la zucca in testa Siamo fashion Sì, sei fashion Vabbè, allora mi aggiungo anch'io Vai No, aspetta, tieni, tieni Vai, piala Ah, bella Perfetto Però vedi da schifo Quello è il problema Eh, vedi Eh, vedi Ora siamo tre Rinco Con le zucche in testa Molto bello Allora Sì, siamo rinco Facci uno screen Io, no Vai, screen Ok, vi faccio lo screen da qua, però Ok, perfetto Eh, questo scheletro B Che inizia per B E finisce per O Mannaggia Ti stavo per dare una spazza È qua, è qua Il kamikaze di M Eh, brutto, schifo Ti banno L'ho bannato Vedete, io dico Ti banno Eh, perfetto Ma voi, scusate Voi vi state ricordando Di dire Di delle cose al contrario Mi si è rotto il piccone Ti si è rotto il piccone Quindi cosa vuoi? Eh, degli stick Ok, ok Però hai sbagliato a dirlo, Gabri Eh, come al solito Io non gli do Tu nevi darglieli Tu nevi darglieli adesso Perché lui ha detto cose e le cose correttamente, capito? No, non l'ha detto Allora, devi dire Gabri forza Ma sto parlando a incontrare come hai detto tu Ah, sì Ma infatti dicevo io Ma cosa sta dicendo, Angelo? Eh, vai Vabbè Vabbè Gabri forza Com'è che si dice? Com'è che devi dire? Eh, non mi si è rotto il piccone E non E ho Per chiedere degli stick a me Com'è che devi dire Mannaggia Gian Giuberto Puoi non darmi degli stick Dei stick Dei stick Certo, certo Puoi per dire Non gli servono per niente Puoi darmi degli stick Certo, assolutamente Non ti do gli stick Addio, ciao No, scherzo Tieni Angelo, spostati se non ti Forza Allora, usciamo da questa parte Cuori Eh, anch'io ho pochi cuori Infatti adesso andremo a prendere Chi è stato a fare quel verso? Scusate, eh Che è stato? Angelo No Taglia, taglia, taglia Taglia Taglio, sì Ti taglio Le gambe adesso Ti taglio Cosa, perché? Allora, prendiamo tutta questa cosa Gabri, vieni qua Allora, dov'è che sei? Ma sei mutato Ma Gabri Scusate, ma dove Gabri? Bravo, allora Vieni qua Allora, dove che Oh Ma mi state ancora parlando Addosso Ma io vi banno la vita Allora Allora Allora, non siamo per niente organizzati Allora No, allora Non ci siamo capiti ragazzi Venite subito qua Perché non ci siamo capiti Allora Vi cerco di dire le regole In modo chiaro Angelo Vieni qua Ma Dio Ma io veramente Ma io a volte Mi dico Ma con chi sto parlando Ma con il muro Ma siete questa pietra Ma scusate Ma allora Oh grazie Molto gentile Allora Le regole sono Non dovete parlarvi addosso Però potete interrompermi Quando dovete dire una cosa importante Senza dire cagate Ok? Senza dire cagate La seconda regola La seconda regola è Non fare questi rumori Perché se no nel video si sentono Angelo Ok Terza regola Esclusiva per Gabriele Non fare Quarta regola Esclusiva per Chiara E non dire cagate Quinta regola Esclusiva per Angelo E non far rumore Ma io non sto facendo niente Stai facendo rumore Senti mia sorella Prima in tre L'ha fatto Di tua sorella Non mi Io questa parte la lascio Lo sai Io queste parti le lascio Perché voglio farvi Voglio far vedere Anche ai lunisiani Il retroscena Di questi video Ok Ok Ho trovato una cosa oscura Chi hai trovato? Stavo di nuovo per cadere Una caverna Che fa schifo Quindi andiamo ad esplorare Nuovi biomi Per nuovi orizzanti 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 Ok Allora Abbiamo trovato Allora Stiamo ad un punto fermo Duniseani Ai tizi qua Che se sareste i miei amici Non so come continuaro Continuaro Perché Perché in pratica Qua ci si ferma Quindi Ho creature Fate Fate delle barche Ho creature Creature cretine Però pur sempre creature Ok Ok bravo Bravo angelo Che sta facendo delle barche Io non aspetto voi Io ne faccio una Ok Anche io ne faccio una Vieni deniziolo Grazie Non venire deniziolo Non vengo Ah non venire Ok vai In fondo al mar In fondo al mar Spero non letteralmente Chiara No Allora però dovete seguire I mannaggia Le vostre chiare Io non ti sto seguendo Ok non segui Bravi Allora Sai guidare Sai guidare Sì Quindi sai guidare Pensato un po' Proprio sincera Comunque abbiamo già Trovato una cosa Un'isola Una La foresta Di fungus Oh i mushroom No Non stanno qua Le mushroom Non stanno qua Eh i nuovi mushroom Sì Non so cosa stia dicendo Ah Poi dobbiamo andare Nel nether Nella hardcore Due tizi Amici Tu sei pazzo Eh tu non sei pazzo Eh io non sono pazzo Esatto Però guardate che bello Questo legno Tutto scuro Fateci sapere in un sondaggio No scherzavo YouTube toglie pure i sondaggi E infatti Sono un po' cretino Infatti mi do gli schiappi da solo Mannaggia a me Alle mie sorelle Anche se non ho le sorelle Però vabbè Siete morti No 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 vivissimi Ok Allora Lo facciamo così Finiamo sto video Catastrofico Io vi giuro High lights please Allora Duniziani fa Visto che è già notte Quindi che schifo la notte Mettiamo innanzitutto Questi magma Così fanno luce Perché non abbiamo le torce Poi Così che No Sì Qua sei Ma perché Io amici cretini Che vanno si Magma Wow Sì pure tu Chiara Però va Comunque Direi di finire questo video Prima che muoiano tutti Mi ha picchiato Volevo rompere il blocco Stupido Mi ha ripicchiato Ah Cretini Allora Madò Pure le moto Vabbè Io direi che per questo video Possa essere tutto Duniziani Io vado A sotterrarmi A Dio Ciao 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 Cosa